Com'è andata Mattia? Vuoi vedere il mio cambio? Ieri ho fatto esplodere una 36 minuti No! Oggi cambio Uuuuh, che bel lavoretto! Ti piace? Ho sentito un bel tirone È nuovo NX questo? Sì, sì, è quello antiurto Alza l'alettone anche qua, no? Sì, sì, sì Depletore per andare... Vela festa! Guarda qua, l'avamo ripartito! L'hai cambiata, ma questa è arancione, è più bella? È più bella, sì È più bella l'arancione Ma questa era la sua È in tinta? Ah, ok Questa era la sua Però è inchiappettata per la tua Rubi le forche al papi Certo Ma l'hai visto ieri? Anch'io Hai girato? Perché tu non hai visto me Sì, 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 ho girato, ho girato Vabbiamo, se saremmo... Quando tu eri là, io non ero qua Perché stai riprendendo, eh? Stai riprendendo? 32 secondi Sì? Siete qui dentro, eh? Tutti i ciavati Tutti presenti Voi? Vai! No! Alla Grazie a tutti 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 Grazie a tutti